...essere qui struttura, no? Ma non avremo questo. No. Vogliamo dare un'occhiata a terrazzo? Eccoci qua, oltre queste porte finestre, troviamo... Ma che stai facendo? È un posto dove ci si rilassa. Vengo da voi. La prima cosa che ho visto venendo qui è quella casa, il cui terrazzo ridà completamente sul nostro. Ma non ci fai caso, perché c'è un panorama stupendo, esatto. Questo giardino non può competere con il posto. È molto diverso, ma bello. Bene, andiamo di sopra, perché vi mostro le camere. Allora, Max e Pison dormiranno in questa parte... Ciao, Argo. Oh, bene. ...questa parte, ok. C'è una camera qui e poi l'altra oltre quella porta, che in pratica è della stessa grandezza. Ottimo. Entrambi hanno un grosso armadio. Ai ragazzi piaceranno. Già. Il bagno che i ragazzi dovranno condividere si trova a pochi passi dalle camere. Eccolo. Ognuno con il proprio lavato. Grandioso. Una doccia spaziosa. Benvenuti nella vostra camera. Oh, che bella. È impressionante. È davvero gigantesca. Lo so, è fantastica. È un palazzo reale. Che camera. Già, molto bella. Già, molto bella. Si, non ho un'altra camera. Potremmo affittarla. Fai il morto. E poi, il vostro bagno. Fai il morto. Guardate che meraviglia. Argo. Accidenti. Argo. Ci si può giocare a pallone qui. È morto. Che bellezza. Che bravo. Ci entrano almeno cinque persone. Che bravo. Che bravo.